Siamo all'interno di una location tanto particolare quanto insolita, qual è il castello medievale di Agira. Siamo in compagnia di Orazio Cuccia, presidente nonché fondatore dell'Associazione Castelli di Enna. Orazio, che cos'è e di cosa si occupa appunto i castelli di Enna? Salve, mi chiamo Orazio, mi occupo, sono il presidente di questa associazione, mi occupo di valorizzare i nostri castelli, le nostre bellezze, ciò che abbiamo nel nostro territorio, che sono i vari castelli di Enna, di Agira, di Sperlinga, di Nicosia, di Gagliano, sono tutti belli ma sono abbandonati. Bisogna valorizzare questi posti. Dico, si può buttare tutta terra così? Cioè dovrebbe essere l'oro della nostra terra, perché diciamo a parte il grano e un po' di turismo, cosa abbiamo? Bisogna tenere puliti questi luoghi. Venite, il 21 maggio. Io ci sono, voi ci siete. Infatti abbiamo visto che anche solo per raggiungere il castello, per raggiungere la torretta in cui noi ci troviamo in questo momento, le condizioni del terreno sono veramente pietose. Ci siamo riempiti di frasche e serpaie. Qual è l'appello che vuoi rivolgere alla popolazione di Agira affinché possano aiutarti e aiutarci? Parliamo al plurale, sabato mattina. Venire solo per la voglia di pulire. Basta. Non ci sono soldi, non c'è niente, nessuno ha niente. Ormai è tutto distrutto. Ma senza soldi il passato deve vivere, perché ci sia il presente e il futuro. Bisogna essere tutti qua. Hai avuto delle risposte, l'associazione ha avuto delle risposte da parte dell'amministrazione o per il momento tutto tage? Perché magari loro dovrebbero essere i primi a interessarsi a iniziative di questo tipo. No, l'amministrazione c'è. Devono venire dei volontari a pulire, volontari pagati RMI a pulire. Quindi il lavoro bisogna farlo e ci saranno, sono tutti presenti. Tutti, ma destra, sinistra, non è importante. Non voglio vedere nessuna bandiera. Bisogna essere uniti per Agira. Vi voglio tutti qua, perché questo è nostro, è di tutti, non è mio, è di tutti. Lo possono guardare tutte le persone. Vengono turisti a guardare lo schifo che c'è qua. È una vergogna. Bisogna pulire e deve essere giusto che tutti debbano guardarlo. Non c'è bisogno di chiuderlo. Bene, si chiude ogni cosa. Bisogna venire ed esserci. Puntuali. Bene, allora a questo punto appuntamento sabato 21 a partire dalle 9 di mattina, se non sbaglio, Castello di Agira.